Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili, chi difenderà? The legend is back, the legend is back. Wow, splendido! Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere! I combattimenti più emozionanti, le scene più divertenti e un imperdibile episodio mai visto prima, l'inizio di una nuova avventura per i Gormiti. E questo da dove è uscito? E insieme ai Gormiti, i mitici Johnny e Giada direttamente dal Gormiti Show! Wow, è davvero pazzesco! Gormiti! Ciao amici e bentornati al Gormiti Show! Giada, wow, ma hai visto il trailer e il film? È davvero stupendo! Sì, e poi ci siamo anche noi! Ma lo sai che io l'ho già visto tantissime volte? Quante volte sentiamo? Tanti, non le ho neanche contate! Troppe, troppe! Io almeno l'ho visto 500 volte! Mi sa che ti ho battuto! È impossibile, è impossibile! E tra l'altro Giada devo dire una cosa, questo film mi ha messo addosso un'energia pazzesca! Però non dire altro eh! Perché altrimenti rovini la sorpresa ai nostri amici! Magari non l'hanno visto! Muto come un pesciolino! Bravissimo! Bravissimo! Giusto! Amici praticamente troverete un Lord... No, no, no! Johnny, non dire troppo! No, no, no! Non dico troppo! È già detto abbastanza! Un Lord e poi... No, no, no! È meglio cambiare argomento! Che c'è un'altra bellissima novità! Ma una cosa suona! No, no! Dici troppo! Due! Wow Giada! Questa è la nuova Wave dei collezionati! Hai visto quanto sono belli? Eh sì! Oggi li presentiamo in questo modo! Signore e signori, sul campo a sfidarsi abbiamo... Omega Lord Voidus! Omega Kratus! Omega Trooper! Ultra Icalos! Ultra Orion! Ultra Avoc! Piron! Krios! Sono proprio una squadra fantastica! Eh sì, già da basta chiacchierare è arrivato il momento di sfidarti! Anzi, è arrivato il momento che io vinca! No! Adesso vedrai che mi sarò io! Ah, hai già scelto! Sì! Sono sicura che questa è la bustina qui! Pronta? 3, 2, 1! Vediamo un po'! Eh già! Mi piace! Wow! Che hai trovato? Allora, io ho trovato Piron! Io ho trovato Ultra Orion! Eh sì, eh sì! Eh sì, eh sì! Ok, vado avanti! Sulla card ho il numero 7! Sulla card ho il numero 6! Vediamo un po'! Eh che... Sotto Orion ho il numero 2! Io ho il numero 3! 7 più 2, 9! 6 più 3, 9! Ah! E quindi siamo pare! Per una volta! Almeno non hai vinto! No, no! Il gioco non è questo! Adesso peschiamo un'altra così io vinco e poi... No, no, no! Andiamo avanti, andiamo avanti! Gianni, ma lo sai che oggi è la giornata mondiale dell'ambiente? Ah, quindi vuoi dirmi che vuoi portarmi al mare? No, al mare no! Però ho preparato una bellissima sorpresa! Eh, le sorprese mi piacciono! Gianni, hai visto dove ti ho portato? Wow! In mezzo alla natura! Mi piace davvero tantissimo! Poi adesso che è anche quasi estate si sta davvero molto bene! Ti ricordi quante foto abbiamo fatto? Eh sì, tante! E in una io ho abbracciato un albero! È vero, era davvero davvero divertente! Sì! Bambini, bisogna proteggere la natura, è molto importante! Eh sì! Ma sai che mi è venuta un'idea? Sentiamo! Potremmo chiedere ai nostri amici di mandarci le foto di loro insieme magari al gormiti! Allora, i gormiti! I genitori insieme al gormiti! In mezzo alla natura! E noi le pubblichiamo! Mi piace tantissimo Giada! Questa è una bellissima idea! Mandateci tutte le foto a gormitishow.gormiti.com Uno scoiattolo Giada! No, Gianni, aspetta dove vai? Gianni! Bellissimo! È meglio andare avanti! E ora è arrivato il momento della bacheca gormitica! Ah! Eh sì, ragazzi, ci sono arrivati dei disegni strepitosi! E ci sono anche le spiegazioni dei disegni! Sono curioso! Adesso me le leggo! Ciao, siamo tre grandi fan svizzeri che adorano i gormiti, in particolare i d'Arkan! Ecco la storia dei disegni! Ok! Disegno di Ambre, la vacanza di Lord Voidus! Guardalo come Lord Voidus proprio sta lì che prende il sole! Ha un bellissimo sorriso! Cioè, se la guardi proprio la vacanza! Beato lui! Poi c'è il disegno di Tiffany che ha disegnato i guardiani in versione animale che combattono Kratus! Guardali! Sono stupendi! Sono tenerissimi! E poi c'è il disegno di Agnes e dice che ha disegnato Xator che fa apparire un biscotto al cioccolato! E mi fa venire fame così! Mi fa venire fame! Che beh! Ma siete davvero bravissimi! Ma siete degli artisti! Davvero complimenti! Molto molto belli! Wow! Amici continuate a mandarci i vostri disegni su gormitishow.gormiti.com perché poi noi nelle prossime puntate li mostriamo! Facciamo sempre vedere! E mi raccomando continuate a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di Youtube! Iscrivetevi al canale e mettete tantissimi like! Tantissimi! Un abbraccio da Johnny! E Zada! Ciao! Ciao!